Federico Giampaolo, te che sei stato prima che allenatore un giocatore, sai perfettamente che ci sono quelle giornate in cui bisogna di fatto rassegnarsi al fatto che la sconfitta è quasi inevitabile. Oggi per larghi tratti è sembrato l'Avezzano destinato alla sconfitta pur avendocela messa tutta. Sì, diciamo che la partita soprattutto il primo tempo meritavamo molto di più perché la squadra nonostante sia andata sotto ha continuato a giocare. La dimostrazione sta che abbiamo preso cinque pali, il rigore è sbagliato. È stata una partita che è storta, capita pochissime volte secondo me perché quando crei tantissimo forse un golletto ci scappa. Se avessimo pareggiato la squadra avrebbe preso più coraggio, più voglia ma io non posso rimproverare nulla effettivamente perché si sono impegnati dal primo al novantacinquesimo. Il Pineto è una squadra che poi quando va in vantaggio è molto forte a chiudersi, a difendersi ed è una qualità sicuramente. Poi dei giocatori che ripartono bene però mi dispiace perché abbiamo fatto un grandissimo campionato. Io se devo fare un'analisi a 360 gradi sono veramente orgoglioso di aver allenato questa squadra perché mi ha dato tanto, mi ha fatto crescere, abbiamo avuto una crescita sia ai giocatori che anche alla società esponenziale, molto bella. È stato un campionato bellissimo sotto i punti di vista. Questa partita forse ci dava, come posso dire, la ciliegina sulla torta per continuare questo campionato. Purtroppo il calcio si sa è così, pazienza, rimane la grande annata che abbiamo fatto. E che vi ha riconosciuto anche il pubblico del Dei Marsi con quell'applauso finale che un po' forse vi ripaga della sconfitta. Io penso di sì perché io penso che i tifosi quest'anno si siano divertiti vedendo questa squadra ed è stata una cosa bella perché i tifosi dell'Avezzano hanno dimostrato grande professionalità e sanno di calcio. Noi quest'anno abbiamo fatto, ripeto, molto bene, abbiamo valorizzato parecchi giovani, abbiamo fatto tanti record per l'Avezzano. E ripeto, se guardiamo questa partita c'è il rammarico, però se guardiamo tutto il campionato io sono veramente soddisfatto di aver allenato questi ragazzi. Ho avuto un bellissimo rapporto con il presidente che mi è stato vicino nelle prime cinque partite di campionato quando la squadra ancora non stava bene. Lui mi ha chiamato e mi ha detto continuiamo a lavorare, per cui mi ha dato fiducia che per un allenatore è fondamentale. E poi da lì siamo cresciuti tutti e questo è sicuramente una soddisfazione per tutti quanti noi. Daniele Amaulo, sia sincero, due mesi fa se l'aspettava di ritrovare il Pineto in finale play-off? Ma adesso è facile parlarne. Io ho sempre creduto in questa squadra, nel lavoro e forse qualcuno si è lasciato condizionare un po' da qualche risultato e è andato per il verso giusto. Però come dico sempre, come dice un vecchio allenatore, il pallone è una cosa e il calcio è un'altra. Per parlare di calcio bisogna dare tempo, lavorare e cercare di dare fiducia ai componenti di un gruppo. E noi questa fiducia ce la siamo presa da soli andando giorno dopo giorno anche quando nessuno credeva più in noi. Quindi questo risultato è un risultato importantissimo che gratifica la società e i ragazzi perché hanno subito degli attacchi, secondo me, fuori luogo. E quindi ci tenevano a dimostrare il proprio valore. Io ho detto che potevamo fare una sfida da vincere e ne avremo tratto girovamento tutti quanti. Così è stato, la sfida non è finita. La prima sfida era quella di centrare i play-off e l'abbiamo centrata con merito. Adesso la sfida ce n'era un'altra, è quella di raggiungere la finale. Abbiamo superato il turno e domenica ci prenderemo al meglio per fare questa finale. Sulla partita di oggi, tre ingredienti. Ottimo approccio del Pineto, attenzione difensiva e anche un pezzico di fortuna che non guasta. Siamo andati molto lontani da un'analisi, seppur sommarie. No, un'analisi esatta. Magari dal punto di vista tecnico il mio pensiero è stato quello. Quando siamo stati abili e aggressivi per cui stare palla alta, abbiamo fatto male. Quando poi siamo usciti, non con i tempi giusti, l'Avezzano, che ha un ottimo impianto di gioco, ci ha boccato tra le linee. Abbiamo messo sempre la nostra difesa nell'uno contro uno e quindi si è resta pericoloso e ha creato le sue opportunità. Siamo stati fortunati in più della circostanza. Hanno preso quattro legni, però noi abbiamo avuto quattro o cinque palle di gol importanti. Secondo me il primo tempo è stato di altissimo livello. Entrambe le squadre hanno fatto un'ottima partita e entrambi volevano vincere la gara. Poi siamo stati fortunati su qualche episodio. Il loro portiere è stato bravissimo. Forse nella seconda frazione c'è stato più equilibrio. Abbiamo cambiato atteggiamento. Anche sistema di gioco. Sì, abbiamo cambiato sistema di gioco. Abbiamo rischiato soltanto in modo clamoroso sulla posizione di Cerone. Anche se poi con Farias abbiamo avuto un'occasione per chiudere la partita che ha calciato. C'è stato più equilibrio, pochissime azioni da golle. Forse un po' di lucidità è venuta a mancare, però noi con il nuovo assetto tattico eravamo più equilibrati, più ordinati in campo. Non subiviamo uno contro uno e abbiamo un po' limitato l'Avezzano nel proprio gioco.